buongiorno ragazzi buongiorno e bentornati come sempre sul canale come state tutto bene spero proprio di sì scusate la scera ma non sono truccata perché anche stamattina sono andata a camminare con mia mamma ho fatto 6 chilometri e 20 e quando arrivo mi faccio una doccia mi sono anche lavata i capelli ce l'ho abbastanza gonfi infatti l'ho legati ma si vede da dai tutti questi ciuffi che rimangono insomma così e ne faccio la doccia e non non mi trucco allora ho preso dei cuscini del divano da mia mamma che gli avevamo prima al bar quando eravamo i divanetti e sono belli adesso li ho messi a lavare e poi li cambierò li metterò qui sopra il divano non ci fate caso qui c'è la borsa dell'acqua calda e il massaggiatore quello della naipo che mi mandarono una collaborazione di un paio d'anni fa perché mio marito gli faceva male la tutta la cervicale e allora ieri sera si è un po aiutato con quello per il dolore allora ora spengo le luci a che bellissimo tutto l'albero illuminato da da e buon blog mass a tutti voi mi ero scordata siamo nei blog mass tutto illuminato bello mi piace piace tantissimo qui abbiamo già due pacchi regalo che in realtà sono dei miei nipotini del mio nipotino della mia nipotina che in qualche modo poi dovrò farglieli recapitare più che altro la mia nipotina che sta in un comune diverso dal mio e essendo che non ci si può spostare penso che l'unico che possa andare e sarà mio marito che può raggiungere insomma la mamma per motivi per altri motivi vediamo ancora non lo so se non sappiamo bene le regole ovviamente non ci si muove e poi si vedrà io intanto i regali li ho già fatti e anche impacchettati ovviamente tranne quelli di asia perché ovviamente se no lei va subito a sbirciare generalmente regge ma negli ultimi anni che ha capito come funziona non sta reggendo più allora ragazze iniziamo questo blog mass con una bellissima e buonissima ricetta ovviamente la conoscerete tutte ovvero parliamo delle cotolette di melanzane allora io metto subito le mani avanti andrò a figgerle nell'olio perché le faccio in quel modo perché devo essere sincera abbiamo visto questa ricetta in un video con asia qualche settimana fa e a lei è piaciuta molto e vuole ma com'è bello l'alberino si vede anche dalla cucina che bello e quindi nulla abbiamo visto questa ricetta e allora niente ne ha chiesto appunto di riproporgliela io ovviamente la farò a modo mio ma gliela farò no e quindi nulla abbiamo deciso appunto di friggere e di friggerle però voi se volete potete anche cuocerle a forno mettete il forno ben caldo a 200 gradi per penso un quarto d'ora fino a che non saranno ben dorate ovviamente dopo averle passate nel pangrattato metteteci dell'olio sopra così verranno anche nel forno belle croccantine penso io insomma non l'ho mai fatte nel forno sinceramente penso di averle fatte se no un paio di volte fatte a medaglioni tondi questo giro le facciamo a fette lunghe speriamo che mi vengano bene allora intanto giro la fotocamera vi faccio vedere gli ingredienti e poi partiamo subito con il procedimento allora gli ingredienti che andremo a utilizzare innanzitutto sono le melanzane tagliate così per per lungo le ho tagliate già da moretta abbondante ecco perché hanno questo colorino qua è che la melanzana è buona melanzane a fette vi ripeto potete fare anche tonde quindi più piccoline io voglio fare proprio una fetta e intera quindi due fette devono essere poi ci occorrerà del pangrattato delle uova io ho messo tre uova leggermente insomma sbattute ora andrò a metterci anche all'interno un pizzico di sale e un po di pepe bianco voi potete mettere del pepe nero potete aggiungere anche del prezzemolo asia prezzemolo non la fa impazzire quindi non lo metto poi del galbanino formaggio quindi utilizzate quello che meglio credete io ho il galbanino avevo e quindi sto utilizzando questo però voi potete usare anche il provolone lemmental quello che vi pare non ci sono problemi e poi del prosciutto cotto quanto quanto vi basta e ovviamente quanto ne volete mettere all'interno delle fettine adesso piano piano andiamo a riempire le nostre fettine passarle nell'uovo del pangrattato le metteremo nel piatto e poi andremo a friggere io ho già messo una padella la sto facendo sto facendo scaldare l'olio a fuoco basso in modo che anche se ci mette più tempo però si riscalda secondo me meglio e non subito a fa fiamma alta che appena si mettono le cotolette e schizza tutto l'olio dappertutto invece io lo faccio scaldare questa è sempre mia abitudine per fisco accendere a cinque minuti prima dieci minuti prima però che si scaldi piano piano così anche quando andranno in cottura le nostre cotolette di melanzane si cuoceranno piano piano e verranno di una doratura meglio rispetto a quando si cuociono quasi bruciate che mi capita anche a me ovviamente magari con la furia così facciamo facciamo più veloce allora prendiamo una melanzana questa tra l'altro rimasta un po trattata meglio ancora mettiamo del prosciutto cotto al suo interno quanto ne volete voi mettiamo il formaggio chiudiamo la melanzana questa era un po tagliata ok la passiamo nell'uovo e dopo nel fangrattato ecco qua eliminate tutto in eccesso e questa è la nostra cotoletta di melanzana pronta adesso appena l'olio è ben caldo andremo a metterla per friggerla e così faremo per tutte le altre cotolette ecco qua ragazze ho messo le nostre cotolette di melanzane a friggere nell'olio infatti come vedete sì l'olio appunto era ben caldo però quel caldo giusto che infatti non ha schizzato non ha fatto danni insomma giro adesso le lasciamo cuocere per due tre minuti al lato e poi le andrò a rigirare e così fino all'esaurimento dei nostri ingredienti o appunto fino a quanto ne volete fare ovviamente voi se avete invitati le potete fare per una cena in famiglia una cosa sfiziosa comunque se le fate a medaglioni potete farle appunto anche più piccole e quindi in quantità più grandi come preferite questo è il risultato delle prime due che ho già ho già cotto devo dire molto bello adesso ho messo questa qui che è la fettona più grande e più spesa che ho fatto magari ci vorrà qualche minuto in più ho messo due qui due le ho già impanate adesso me ne mancano altre due barra tre vediamo quante ne vengono fuori comunque l'aspetto devo dire che non è per niente male è lo stesso l'odore ci vediamo dopo quando avrò finito di prepararle tutte le nostre cotolette di melanzane sono pronte eccole qua sono bellissime da vedersi sicuramente saranno molto buone a me sono venute fuori con una melanzana lunga 2, 4, 7 e andremo ad accompagnarle con della focaccia che ho comprato stamattina al panificio e dello spinacino e che andremo a condire con un po' di con un cucchiaio di olio e un po' di sale e questo sarà il nostro pranzo di oggi allora appena le vado a tagliare vi metterò la foto dopo con la cotoletta tagliata per farvi vedere come si vede anche all'interno ma a vederli mi sembrano davvero ottime che dire ragazze un pranzo completo e molto gustoso adesso le andremo ad assaggiare e vi farò sapere poi come sono venute ovviamente vi metto le clip dopo quando le andrò a tagliare così appunto le vedrete anche all'interno ma credo che siano davvero buone adesso le facciamo un po' raffreddare perché sono appena state fritte quindi sono ancora calde sono l'una e venti noi tanto mangeremo fra una ventina di minuti perché Asia è ancora in video lezione e niente è tutto qua ragazze anche questo vlogmas finisce qua io spero che vi sia piaciuto vi abbia tenuto un pochino di compagnia questi minuti con me anche se siano 10-15 minuti che siano spero che vi abbiano fatto compagnia perché nelle giornate comunque nostre o perlomeno le mie da mostrare ragazze c'è veramente poco a parte le pulizie giornaliere quindi lavare il pavimento dare l'aspirapolvere pulire i bagni rifare i letti poi mi occupo tutto sommato di fare la spesa di cucinare di addobbare casa per Natale e quindi sono le cose che faccio sempre nel mese di dicembre quindi quello che vi faccio vedere anche se non è una ricetta nuova magari non l'avevate in mente quindi vedendo questo video vi può venire in mente di prepararla è una ricetta molto golosa gustosa e secondo me piace a tutti i grandi e soprattutto i piccini che magari non mangiano verdure è un'ottima idea per fargli mangiare anche la cotoletta con dentro saporita con del formaggio e del prosciutto cotto secondo me sono due ingredienti che anche ai bambini piace davvero molto e niente nel frattempo che preparavo le cotolette ho dato una lavata veloce a terra qua nel mio robottino ha aspirato dato che in casa c'eravamo solo io e lui? sì? sì arrivo! arrivo arrivo! eravamo solo io e lui per ora ora è arrivato il mio marito e ha bisogno di aiuto e nulla io vi mando un bacione ho anche votato il sacco della spazzatura nel frattempo che devo buttare anche dei fiori quelli del compleanno di Asia che hanno resistito veramente tanto ma li devo buttare si sono seccati ahimè abbiamo levato e messo la lacca solo in quelli più le margherite e rimangono abbastanza belli e nulla io vi mando un bacione vi auguro una buonissima giornata spero che la videoricetta vi sia piaciuta vi levo dal sacco nero noi ci vediamo come sempre domani con un altro video un altro vlogmas mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se volete attivate la campanellina per non perdere le notifiche e noi fino al 25 staremo insieme ciao ciao